ragazzi adesso vi farò vedere come mettere il vostro iphone o telefono qualsiasi sul frigorifero guardate qua che bello questo supporto lo mettete qua a volte può servire sembra una stupidaggine ma a volte può servire questo è il silicone guardate che bello ma adesso non lo accendo ma per dire no tanti qua questo non si stacca neanche una martellata